I fondatori. Fondatori di cosa? Della peggior caccia al tesoro. Ci sono i sigilli di Avri e Tew. Hanno qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano? Beh, in quale verso bisogna ruotarli? Ruotano? Oh! Ok. Diamo un'occhiata. Sì? Solo un attimo. Altri simboli pirata. Adam Boldridge, Anne Bonny e Christopher Condent. Ci sono troppe variabili. Vediamo dove conduce quella porta. Spero ancora in qualche tesoro. Non sei il solo. Ehi, guarda, avevo ragione. Boldridge, Bonny e Condent. Splendido. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Wow, guarda che baffi. Fanno concorrenza ai tuoi. Se lo dici tu. Guarda le stelle. Sembrano quelle sui sigilli di Avri e Tew nell'altra stanza. Hai ragione. Giusto. Condent lo chiamavano Billy Manomozza. L'altra doveva essere finta. Qui c'è un altro motivo stellato. Sì, ma è del tutto diverso dal primo. Sì, giusta osservazione. Grazie. Visto? Non sono solo bello. Bonny aveva i capelli rossi. Sì. Che ne pensi? I sigilli di Avri e Tew. Le loro stelle combaciavano, ricordi? Forse anche queste lo fanno. Ah. che ne pensi? Ah. Ah. E un'altra porta Sì Allora Chi sono questi? Beh Sono... Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati Siamo bloccati? No, ma che bloccati? No, dammi il telefono Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno Scrivo a Sam Ci siamo Questi dipinti non sono niente male, no? Se non troviamo il tesoro, magari potremmo venderli a un museo Perfetto Prima Pamondo, questo Wont sembra uno studioso Ehi, Richard Wont, era il capitano della Dolphin Scommetto che lui e Boldridge organizzavano gare di parrucche Sali, mi aiuti? Eccomi Grazie È dritto? A chi diavolo importa? A me importa Guarda che faccia quel Farrell Voleva essere ovunque tranne che lì Ehi, a chiudere! Grazie a tutti. Grazie a tutti. In realtà so tutto. Voglio solo che Sam sia al corrente. Inoltre, gli piace sentirsi utile. Ah, certo. E uno. Anche il nome. Dall'aspetto sembra Saraceno. Ecco le stelle, ma tu chi sei? Yassid al-Basra. Sembra indiano. Quasi. Era Mogul. Mogul? Non era il popolo derubato da Everi? L'onore dei ladri. Sì, già. Va sempre a finire così, vero? Ne sono tre. Edward England. Un anerottolo talchiatello. Bene, ho i nomi di due di loro. Dovremmo venirne a capo lo stesso. Un anerottolo talchiatello. Iscriviti all'e hell clicking. Grazie a tutti. Grazie a tutti.